Sei mesi di attività, 40 concerti e artisti straordinari con una grande partecipazione di donne sono i numeri della stagione numero 78 della Società Aquilana dei Concerti Baratelli presentata dall'istituzione culturale, una programmazione importante e studiata nei minimi dettagli. Sì, un grandissimo sforzo, ma non è soltanto uno sforzo numerico, ma è una concentrazione sulla qualità. Sono 40 concerti, molti dei quali rappresentano l'eccellenza artistica, l'eccellenza non soltanto italiana, ma direi europea. E questo è importante. L'Aquila è tornata ad essere un punto di riferimento del grande concertismo europeo e questo grazie all'attività straordinaria che ha portato avanti il nostro direttore artistico Fabrizio Pezzopane e l'intera istituzione di attenzione verso quello che accade nel mondo non soltanto in Italia e soprattutto la massima attenzione alle esigenze culturali del territorio. Quindi le nostre programmazioni non sono programmazioni casuali dove mettiamo insieme delle cose importanti ma le mettiamo in funzione della risposta che può venire dal nostro pubblico. Si parte il 30 settembre e si prosegue sino al 28 aprile con concerti tra l'auditorium del Parco e il Ridotto del Teatro Comunale un programma artistico di tutto rispetto con grandi nomi. La stagione aprirà il 30 settembre, sabato 30 settembre, con un doppio concerto affidato al grande Mario Brunello che questa volta si presenterà all'Aquila con il suo violoncello piccolo e seguirà tutte le sonate partite di Bach originariamente composte per violino, questa volta invece affidate dal maestro al violoncello piccolo. Poi altri grandi nomi del concertismo internazionale a partire da Grigori Sokolov, Nikolai Luganski, Fasil Sai, questo straordinario pianista, compositore e improvvisatore turco che vi è ormai da anni in Germania, poi il quartetto Gringols, poi ci sarà una ampia sezione dedicata al jazz che inizierà proprio con il grande Paolo Fresu con questa sua produzione Jazzy Christmas dedicata al Natale Grazie a tutti!